E da quello che ho visto, raga, è molto molto simile a Silent Hill's PT. Ve lo ricordate Silent Hill's PT? Allora, dovrebbe essere un gioco sul paranormale, quindi fanta... non lo so. Vediamo un po', vabbè, penso si veda dall'immagine che tratta di quello. Ragazzi, premiamo X. Lui l'ama Doyle. Cazzo è Silent Hill 4, The Room. Porca miseria. Ok, ho le cuffie al massimo, raga. Questo gioco contiene immagini che possono urtare la sensibilità dei giocatori. Minchiai ragazzi, graficamente è una bomba. Visage è un gioco difficile e complesso, bene. La pazienza durante le indagini e una buona gestione delle risorse saranno i tuoi migliori alleati, buona fortuna. Indagini? Cioè, quindi si tratta davvero di tipo Ghost Hunter? Oddio, più o meno. Non penso. Sta porta è Silent Hill 4, The Room, comunque. Ditemi quel cacchio che volete. Una pistola. E c'è qualcuno che piange. Graficamente è tanta roba però, eh, sembra. Cioè, per essere un gioco da 35 euro. C'è una donna legata, ragazzi. Anzi, mi sa più persone legate. Mi sa che sto tizio non ha belle intenzioni. Anzi, mi sa più persone legate. Dio mio, santo che ansia. Così proprio. Così proprio. Ah, pure si suicida? Visage. Porca puttana. Porca puttana, ok. Eh, promette bene. Ci stiamo svegliando. No. Ma questo inizio è PT, ragazzi. Perdonatemi. È Silent Hill's PT sto inizio. È PT. È PT. Sto gioco è PT. Non posso cagare mi addosso per un telefono, porca. Ciao, Dwayne. È Rose, il vostro amico. Mi sape che è tardi. E mi sape che mi sento un po' ansioso per le cose piccole. Scusate per le cose piccole. Scusate per questo, ma mi sento un po' risposta. Non ho visto te fuori dalla casa in circa tre settimane. È tutto bene? Poi potresti ringmiare solo per lasciarmi sapere che tutto è bene? Allora, ciao, ciao. Oh, Dio, che brutta roba. I bambini negli horror, no. Sento dei passi al piano di sopra, raga. La cosa non mi... Beh, lo sto... Io ne ho appunto, sto orologio, lo sapete? Ne ho appuntato... Cos'è quella macchia rossa? Cioè, se guardo l'orologio mi... Se guardo l'orologio appare la macchia rossa, perché? No, no, no. Forse è qualcosa di negativo. E infatti è la sanità mentale. Cioè, mi peggiora la sanità mentale se guardo l'orologio. Capisco che è inquietante quell'orologio. Infatti lo stavo dicendo io. Però... È un orologio. Il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco. Restare troppo a lungo, al buio, ridurre il livello di sanità. Non mi chiede, cazzo, è amnesia? Tale livello è indicato come un'icona nella forma di cervello che si trova in un angolo in basso a sinistra dello schermo. Se l'icona è visibile chiaramente, significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa e potrebbero accadere eventi pericolosi. L'icona ha la forma di nuvola rossa appare quando ti trovi in situazioni di stress psicologico, che a sua volta riduce il livello di sanità del tuo personaggio. porca trota. Perché non si accende la luce qua, mannaggia la... Se ci vai tua nonna là sotto! Io non ci vado là sotto. Eventi paranormali. Gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso del gioco. Impara ad identificarli, per cui ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale. Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa degli eventi paranormali. Oh merda. Ripara. Eh, riparala. R1 ripara. Tieni premuto con lampadina. Ah, non ho lampadina giustamente. Una figa, è PT sta roba. È PT ragazzi, è PT. È tornato PT. Un hell of a sunny day. Get your sunscreen pals out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're gonna have a lot of fun with them. His name is Dwayne Anderson. Dwayne Anderson. Family. Ma questa casa qua è nostra? Mi sa di no ragazzi. A noi non... Cioè non è la casa nostra questa qua. Cioè noi ci siamo svegliati qua. Lampadine. Le lampadine possono essere utilizzate per riparare lampadine e lampadari. Ok, dammela. Ragazzi, è PT. Cioè è chiaramente PT ragazzi. Che figata ragazzi. Finalmente è un horror bello. Che figo, ho riparato la luce ragazzi. Trofeo guadagnato, elettricista. Anche questo lampadare con Datejust fa sto rumore e mi ricorda parecchio PT. Ci sono delle chiavi qua tra l'altro però. Eeeh! Si è accesa da sola la radio. Si è accesa da sola la radio. Si è accesa da sola la radio. Yes. Permesso. Se... Ma se si... Ma non posso entrare qua dentro. Ma sei scemo? No ragazzi, no no no. È bruttissimo. No no raga. Ce la faccio. C'è i brividi. No no cos'era? Era una voce. Era un pianto raga. No no cos'era? Cos'era? Cos'era ragazzi? La metto! No non posso entrare qua dentro. Non posso. No no no. C'è un brutto rumore raga. No dai. Si è niente. C'è il... C'è l'abisso qua dentro. Non posso. Cos'è? Oddio. Oddio. Oddio no. Devo davvero togliere. Perché questa non si apre. Perché non si apre questa? Ma cos'è? Ma che luce è sta roba qua? No ragazzi. Ti sei la chiave? Ho attaccato uno specchietto. Ce l'ho? Ah ok si ricollega. Ok. No cos'era? Questo specchio maledetto. Che cazzo è? No ragazzi. Vedo qualcosa dietro. Scappo eh. Peccato che non c'è un personaggio visibile. madonna. Non c'è più lo specchio. No! Perché c'è la porta rigata? Ma che cazzo stai... No 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 raga 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 no 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 raga. Ma raga in sta casa è successo qualcosa di orribile. Perché per essere infestata a sti livelli vuol dire che... No cos'è quella roba lì sopra? Mio Dio. Gesù. Gesù aiutami tu ti prego. Non c'è una torcia in sto gioco? No per sapere. È questo. A me non piacciono i semi interrati ragazzi. Non mi piacciono i semi interrati. Sì vabbè. Nell'inferno si scende qui. Accendini. Si spenta la luce. Gli accendini sono utilizzati come fonte di luce minore per esplorare la casa e hanno una durata limitata. Questi oggetti non contribuiscono a ridurre il tuo livello di stress psicologico. Se rimani al buio solo con un accendino acceso il tuo livello di sanità mentale diminuirà. Possono essere usati anche per accendere le candele. Buono. La cucina. Cioè è la cucina che comunica con il semi interrato. Che casa di merda. Ma qua si lava da un po' mi sa. Una padella. Fantasma ti do una padellata in testa. Veramente eh. Cioè sono le 3 e 33 raga. Sono le 3 e 33. Cioè non so se ci rendiamo conto di che orario di merda. E tra l'altro non va avanti. Cioè si è fermato il tempo ragazzi. Perché ragazzi ho i brividi della schiera. Porca. E funziona sto horror raga. Funziona. Sara. Settembre. Settembre. Duglio. Dicembre. Agosto. Chissà che cacca è successa a sta famiglia che abitava qui raga. Cioè sicuramente. Forse quella cosa che abbiamo visto all'inizio. Quell'omicidio. È successo qua dentro. Che si spiegherebbe il perché. È infestata a sti livelli sta casa. Ok qua apriamo tipo lo shortcut. Ecco l'unico peccato è che non abbiamo fatto tipo le mani del personaggio e le gambe. Però vabbè fa niente. Buonasera a tutti raga. Coloro che stanno entrando. Ok abbiamo aperto lo shortcut della sala. C'è la luce accesa là dentro ragazzi. No perché ci posso andare. Un ripostiglio. Una manteria. Facciamo il bucato. No magari c'è qualcosa nella lavatrice. Ma tu raga c'hai i brividi. Cosa è in costruzione qua? Tutto da pitturare. No che è sto posto? Dimmi che posso prendere quel martello come arma personale. Ti prego. No si è spenta la luce raga. Eh ho capito evita di rimanere dal buio. Sembra facile a te. Storage room. Ripostiglio. Se lasciati indietro gli oggetti dinamici che sono essenziali al tuo avanzamento del gioco. Si rigenerano nella stanza di avanzamento situata nel semi interrato. Ah ok. Questa è tipo la cassa di Resident Evil. Cioè gli oggetti ne riappeggono lì. C'è l'interruttore per la luce? Eccolo male. Oddio. Non è illuminato tantissimo eh. Che brutta è quella foto! Ma puoi avere una foto così in... 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 Ma puoi avere una foto così? Nel ripostiglio. Ma... Ma siete malati! Perfetto. C'è solo la candela. Ah che figato! Ho cambiato mano! Dell'accendino! Come faccio a cambiare mano un'altra volta? Figa sta cosa eh! Ah ecco! No no per l'amor di dio! Prendi l'accendino! Ok! Ma che è sto rumore? Raga c'è un rumore qua dentro! Che brutta cosa! La cazdaia! Inquietante sto rumore però eh! La lampadina! No! Alto accendino è quasi scarico! No 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 no! Come? Accendino! Ho trovato un altro! Cos'è? Pillole? Le pillole agiscono da Coadiuvante per l'assoluta mentale del tuo personaggio Sono essenziali per la tua sopravvivenza Chiave sala quadri elettrici Che non abbiamo No 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 no! No ragazzi devo usare le pillole per forza San di dio! Chiave siamo interrato! Ce l'ho! Ho catturato l'ultima porta che serviva la chiave! Bene! No! Chi è? Chi è? Chi è che rompe? Chi è? Wow! Un fumetto? Cosa ne dovrei fare un fumetto? Andiamo di sopra Che brutto corridoio È proprio un brutto corridoio questo Dov'è la cosa della luce? Ah Un po' di luce Mio dio La camera da letto questa Madonna ma quanto disordine Candela Che ho attaccato simbolo elettrico Ok Chiave ragazzi Forse è quello delle Le chiavi dei cosi per i pannelli elettrici appunto Madonna che brutto armadio È The Conjuring questo No Ah questo è lo specchio ancora È quello che vedevamo di sotto Maledetto orologio Lo specchio sembra mostrare una stanza della casa Sì con una cazzo di sede ad ondolo che va da sola La stanza della casa Ragazzi c'è qualcuno che cammina al piano di sopra raga Porca puttana Che brividi Che brividi Che brividi pazzeschi ragazzi Ci sono dei brividi allucinanti Cazzo c'è un'atmosfera che ha allucinato Sto gioco Ragazzi ho freddo Mi devo Fermi un attimo Mi devo coprire Quadri elettrici Sì è questa Ho un quadro elettrico Non c'è il momento giusto per esaminarlo Quindi questo sgabello mi servirà Mi servirà Per un altro Per un'altra parte Il problema è dove? Ho trovato un biglietto Posso esaminarlo? Cerchi la chiave del garage? L'avrei lasciata nella tasca dei jeans e nella lavanderia Come sempre Ringraziami dopo tesoro Tasca dei jeans e nella lavanderia Almeno se è questa la lavanderia Può anche essere che non è questa Aspettate forse ci siamo E' bello che l'avevo controllato prima Però non me l'ha fatti prendere E non vale così L'avrei già trovata Cioè dovevo trovare prima il biglietto Sì Ok Ho trovato la chiave ragazzi Non corrisponde Non ci siamo svegliati da qua noi Oddio Due accendini Fuck yeah Vabbè quello a sinistra Lasciamolo Tanto così scarico sarà Ad oil C'è un passaggio segreto Così a random l'ho scoperto La scatola è chiusa C'è una scatola con sopra l'omega Che cacchio sarà Una macchina Prendila e vai via Subito Sfondo al garage Sfondo Porcati quella Sfondo al garage Madonna che schifo Posso andarmene Ma sei serio Non posso fare niente Sto sgrippando qui Non capisco dove cacchio Devo usarlo E' quello il problema Ok ragazzi Da lei è tutto Ci becchiamo alla prossima live Ragazzi buonanotte Grazie a tutti quelli che mi hanno guardato Ciao